Diamo il benvenuto, il bentornato, anzi non il benvenuto, il bentornato al professor Merillo nella nostra parrocchia e questa sera ci presenterà il 49esimo volume della rivista Lingua e Storia in Puglio una rivista che è stata fondata dal nostro illustre e concittadino professor Michele Merillo e che è stato questo compito, questa eredità è stata proprio ereditata dal professor Merillo